Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore sia con tutti voi, carissimi fratelli e sorelle. Nel nome della Beata Virgine Maria, Madre del Buon Consiglio, insieme preghiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Mater, buoni consigli, ora pronobis. Carissimi, eccoci qui dopo qualche giorno, ecco, con una nuova catechesi. E quest'oggi vi porto a una coppia di beati, beatificati il 21 ottobre del 2001 da San Giovanni Paolo II, i coniugi Beltrame Quattrocchi o Luigi Beltrame Quattrocchi e Corsini Maria. Capite subito dove voglio arrivare. Una santità di coppia, una santità coniugale, una santità laica, ma ecco finora abbiamo visto diverse figure di laiche o laiche consacrate, ma la santità del focolare domestico, la facoltà di due coniugi che si amano, che vivono anche con spirito di sacrificio, di abnegazione, la propria vocazione tutti i giorni. Non sono pochi i laici beatificati e canonizzati in questi ultimi decenni, soprattutto nel pontificato di Giovanni Paolo II e così di Benedetto XVI e di Papa Francesco, ma vedete che quello che è importante è che siamo davvero chiamati a quella vocazione universale che è la santità, a rendere ragione e perfettamente ragione del nostro battesimo. Questo non lo dimentichiamo perché è fondamentale. Allora Luigi nasce a Catania il 12 gennaio 1880 da Carlo Beltrame e Francesca Vita. L'età di dieci anni viene affidato agli zii materni Luigi e Stefania, quattro occhi che non potevano avere figli e così assume il doppio cognome Beltrame quattro occhi. Nel 1890 lo zio, funzionario della regia dogana, viene trasferito a Roma e porta con sé anche Luigi che completa i suoi studi e consegue all'Università della Sapienza di Roma la laurea in giurisprudenza. L'anno precedente conosce Maria Corsini, il cui padre era amico di famiglia e il 25 novembre del 1905 si sposano, si sposano nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Tra il 1906 e il 1914 nascono loro quattro figli, Filippo, Stefania, Cesare ed Enrichetta. Enrichetta l'ultima è morta nel 2012, nata decidendo insieme di lasciar fare addio contro il parere di quanti invece sconsigliavano a Maria la gravidanza perché era a rischio. Comunque tutti e quattro sceglieranno la vita consacrata, tutti e quattro i loro figli, Filippo, Stefania, Cesare ed Enrichetta. Filippo sarà noto come Don Tarcisio, sacerdote diocesano, Stefania prenderà il nome di suor Sicilia come monaca benedettina dell'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento. Cesare padre Paolino, prima benedettino e poi trappista, Enrichetta farà parte di un istituto secolare. E qui potremmo già dire dai frutti riconoscerete l'educazione di questi genitori, di questi coniugi speciali davvero. Dall'agosto del 1905 Luigi inizia la sua carriera professionale nella prefettura urbana, sostituto avvocato erariale, segretario generale. Ecco, e poi nel 1946 va in pensione. Riceve poi negli stessi anni diversi incarichi ufficiali presso ministeri, istituzioni dello Stato come l'Empas, l'Iri, la Banca d'Italia, la Banca commerciale italiana, la Banca nazionale del lavoro. Diventerà amico di Don Luigi Sturzo, di Alcide de Gasperi. Dal 1916 troviamo Luigi Beltrame Quattrocchi tra gli scout dell'Asci, di cui faranno parte anche i due figli maschi. Ecco, consigliere generale ancora nel 1921, nel 1919 fonda l'oratorio festivo nella Basilica di Santa Pudenziana, dove comunque ci sarà un reparto scout Roma Venti che lui dirigerà. E poi impegnato nell'azione cattolica, e ancora nel centro studi politici, poi presta la sua opera nel movimento di rinascita cristiana, nel fronte della famiglia. Troviamo Luigi anche tra l'Unital, siccome barrelliere. Fino a che a 71 anni muore a Roma per un infarto del mio cardio. Era il 9 novembre 1951. Maria Corsini nasce a Firenze il 24 giugno 1884, unica figlia di Angelo Corsini e Giulia Salvi. Poi il padre da Firenze si sposta per motivi di lavoro fino a quando si stabilisce a Roma. Maria conclude gli studi superiori, conseguendo la licenza presso l'istituto femminile di commercio per direttrici e contabili. Anche lei riesce a conciliare come il marito i doveri di famiglia. Accompagnerà sempre l'educazione cristiana dei suoi figli, anche quando hanno scelto la vita consacrata, anche quando sceglieranno di consacrarsi al Signore, perché un genitore non smette mai di seguire il figlio. Qualunque sia la scelta che il figlio fa, il genitore accompagna sempre il figlio. E Enrichetta invece vivrà sempre con la mamma, no? Ecco, perché come abbiamo detto sceglierà una consacrazione secolare, un istituto secolare. La troviamo nel 1914 ad Avezzano ad assistere i feriti del terremoto, poi i percorsi di catechesi per donne nella parrocchia di San Vitale. Si dedica a soccorrere i soldati feriti della prima guerra mondiale, curati negli ospedali romani, condivide e promuove lo scautismo, armonizzando l'educazione familiare con il metodo e la proposta scout. Ma ancora diviene nel 1917 terziaria francescana ed entra nel 19 nella congregazione delle dame dell'Immacolata, dal 20 al consiglio centrale dell'azione cattolica femminile e diviene membro effettivo del segretariato centrale di studio. Anche lei dal 1936, come il marito Luigi, accompagna poi all'Urd e all'Oreto i pellegrini, ecco, accompagnati dall'Unitalsi. Una sorta di appunto barregliera, proprio come il marito Luigi. L'anno successivo, poi a conclusione di un corso presso la Croce Rossa italiana, acquisisce anche la specializzazione in malattie tropicali. all'indomani della Seconda Guerra Mondiale presta servizio presso l'opera di ristoro alla stazione Termini di Roma. Dal 1946 al 1947 aderisce al movimento ecclesiale per un mondo migliore di padre Riccardo Lombardi e padre Virginio Rotondi. Come il marito pure collabora con il movimento fronte della famiglia e di rinascita cristiana, pone a servizio dell'attività apostolica la sua preparazione letteraria con la scrittura di testi semplici. Ecco, Maria Corsini è una scrittrice, nel 1911 pubblica La madre nel problema educativo moderno. Nel 1920 diversi articoli su riviste cattoliche come fiamma viva o di ispirazione cattolica, il solco in alto, scrive sul bollettino della fuci, ecco, e ancora scrive lettere con i figli entrati nella vita consacrata, con il figlio padre Paolino, collabora anche a scrivere alcuni articoli e quindi ecco morirà poi a 81 anni a Serravalle di Bibiena il 25 agosto 1965 nell'Aretino. Chi conosce la provincia di Arezzo sa che quella zona è piena di eremi, di monasteri, è una terra spirituale feconda. Costruita muore appunto a Serravalle di Bibiena nella villetta La Madonnina che lei aveva fatto costruire come luogo di vacanza e di ristoro spirituale. Bene, dicevamo il 21 ottobre del 2001 i coniugi Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini vengono beatificati e si può dire davvero che fra l'altro era il ventesimo anniversario di quella bellissima esortazione apostolica Familiaris Consorzio di Giovanni Paolo II, un documento che davvero i genitori, le famiglie dovrebbero leggere, dovremmo tutti rileggere, la Familiaris Consorzio. Giovanni Paolo II nell'Omelia per la messa di beatificazione di questi due genitori esemplari, di questi sposi esemplari ebbe a dire che non sono soltanto un modello di risposta alla vocazione e alla santità matrimoniale come a dire qual è la mia vocazione, no? O come potremmo dire nel concetto nostro vocazione è il prete, il monaco, la monaca, la suora. Tu non c'hai vocazione, no? O c'ha la vocazione. Nel nostro linguaggio, anche nel nostro linguaggio appunto dialettale, nelle nostre espressioni idiomatiche anche tutti i giorni, ecco, siamo soliti dire, i nostri nonni, le generazioni passate, ecco, non ha la vocazione, oppure tiene la vocazione. Tutti abbiamo la vocazione, tutti, perché il Signore ci chiama a vivere con uno scopo preciso. E questa vocazione è fatta di tappe che si snodano lungo il percorso esistenziale di una persona, perché ciascuno di noi ha un progetto, ciascuno di noi viene guardato da Dio con un disegno preciso, nessuno di noi viene lanciato all'esistenza, nessuno di noi si dà l'essere, ma viene mantenuto nell'essere. E poiché ciascuno di noi viene pensato da sempre e mantenuto nell'essere, ciascuno di noi è ovvio che ha un progetto. E questo progetto dobbiamo sempre chiedere al Signore che ci sia snodato, sia che si tratti di vita consacrata, di vita sacerdotale, sia che si tratti di vita matrimoniale, ognuno ha la sua vocazione, ognuno ha un esserci che è vocazionale. Ecco, e quindi a tutti gli sposi, a tutti coloro che vogliono cercare la propria via di santificazione proprio nella vita matrimoniale, matrimoniale, vedete quanto è importante presentare una coppia di coniugi che appunto hanno vissuto in modo esemplare la loro vita cristiana, ma la domanda è come hanno fatto loro a vivere una vita santificante, come hanno fatto a vivere la grazia santificante? Questa è la domanda che dobbiamo porci tutti. Attingendo alla parola di Dio e alla testimonianza dei santi, dice Giovanni Paolo II, i beati sposi hanno vissuto una vita ordinaria in modo straordinario, hanno vissuto una vita ordinaria in modo straordinario. Perché? Perché hanno addempiuto fino in fondo la loro vocazione matrimoniale, la loro sacra mentalità noziale, hanno vissuto un itinerario di fede come coppia. Hanno saputo realizzare una vita straordinariamente ricca di spiritualità, che aveva al centro la vita eucaristica quotidiana, una filiale devozioni alla Vergine Maria invocata con il rosario recitato ogni sera. Ogni sera. E quante volte, dico ai miei fedeli e ai miei fratelli nella fede, recitate il rosario ogni sera. Il luogo in cui vivete sia una piccola chiesa domestica. Perché? Perché, fratelli miei, le mura di casa si impregnano anche di tutto quello che facciamo. La casa è un corpo vivo, non un insieme di mura, di cemento, di mattoni e basta. È un corpo vivo. Se in quella casa non c'è l'armonia, non c'è l'amore tra i genitori e i figli, se in quella casa non entra lo spirito di Dio, se in quella casa non si sente la presenza angelica, quella casa è una casa che divide e ci entrano anche angeli, presenze che non sono buone. Teniamolo presente questo. Quando io dico recitate il rosario, tenete una statua di Gesù, della Madonna, un bel crucifisso, tenete oggetti benedetti, accendete un po' di incenso, tenete delle candele benedette, fate benedire la casa periodicamente dal sacerdote, almeno una volta l'anno. Perché quando io vado a fare le benedizioni nelle case, sento immediatamente se c'è una presenza buona e se c'è una presenza divisiva. Perché la casa è un corpo vivo. Se entrano gli angeli e vengono invocati. E beh, la spiritualità angelica si sente in quella casa. E davvero posso raccontare di alcune famiglie che vivono, pregano insieme ai loro figli. Beh, sentite quella casa, avvertite una presenza di pace. Come mi è anche capitato andando a fare delle benedizioni alle case, delle case in cui sentivo davvero una presenza opprimente, una presenza avversa. E lì bisognava fare una benedizione seria, come in effetti poi ho fatto in qualche occasione, dove c'erano dei problemi, dei disturbi. Bene, allora vedete, una spiritualità non disincarnata, ma realistica, tutti i giorni, una spiritualità quotidiana. L'Eucaristia quotidiana, la Bibbia letta, il rosario recitato sempre insieme tutte le sere. E hanno accompagnato i figli nel discernimento vocazionale. Come dire, aiutandoli, ecco, a valutare tutto quello che accadeva, come loro stessi amavano dire, dal tetto di casa in su, non dal tetto di casa in giù. Questa è un'altra cosa che dobbiamo dire, perché molti genitori considerano i figli una proprietà, non li lasciano liberi, li opprimono, riflettono i loro progetti sui figli. I figli devono diventare lo specchio in cui riflettere i propri desideri, ma non è così. I figli sono di Dio, siamo tutti di Dio e veniamo al mondo non per realizzare le aspettative degli altri. E purtroppo questo quando avviene non può che far precipitare nell'insoddisfazione e nell'infelicità i figli, che avvertono poi forti sensi di colpa, anche quando non riescono a soddisfare i desideri, le aspettative dei genitori. No, cari genitori, i figli non sono la proiezione dei vostri desideri, non sono chiamati a vivere incarnando i vostri desideri, sono al mondo per fare la volontà di Dio, qualunque essa sia. E questo i coniugi Beltrame Quattroocchi e Corsini l'hanno vissuto bene, tant'è vero che quattro figli, non uno, due o tre su quattro, quattro su quattro scelgono la vita consacrata, anche Enrichetta che appunto sceglierà la vita secolare, ma non per questo una vita meno seria. Ecco, una spiritualità quindi armonizzata, così come ogni spiritualità autentica è chiamata a fare, con le vicende della vita quotidiana. Un'educazione dei figli cristiana che ha aiutato questi ragazzi a maturare la loro vocazione, la loro visione cristiana della vita, sia con la vita sacerdotale, la vita consacrata, con l'onestà, le virtù dell'onestà professionale con cui sia Luigi che Maria vivono. E dobbiamo partire da queste virtù del focolare domestico, le virtù dell'ascolto reciproco, del perdono reciproco, le virtù dell'amore, dei valori insegnati in spirito di verità, dell'onestà professionale, perché si parte dall'onestà, dall'essere degli uomini che non accaparrano, non rubano agli altri, ma vivono pur in semplicità e povertà con grande onestà. Allora, per questi coniugi, coppia di sposi, i primi a essere beatificati per le loro virtù coniugali e familiari, lo ricordiamo, la fedeltà al Vangelo, sono sempre parole di San Giovanni Paolo II, la fedeltà al Vangelo e l'eroicità delle virtù sono state riscontrate a partire dal loro vissuto come coniugi e genitori. Ecco, non una vita matrimoniale considerata impedimento alla santità, ma un modo peculiare di rispondere alla chiamata alla santità. E loro hanno vissuto quello che il concilio Vaticano II, soprattutto nella Lumen Gentium, auspica, cioè l'universale chiamata alla santità di tutti i cristiani. E i coniugi Beltrame Quattrochi lo hanno fatto seguendo la vocazione matrimoniale, perché il Signore benedice con ogni grazia e dono del cielo la vita degli sposi. La benedice in modo particolare, perché il sacramentum è sigillo di grazia dello Spirito Santo che scende sui coniugi. Ecco, realizzando la loro vocazione in virtù di questo sacramento matrimoniale, hanno vissuto una spiritualità coniugale, familiare Luigi e Maria. Hanno nutrito la loro vita di virtù, hanno vissuto un cammino spirituale come coppia, una sintesi di ascesi personale, ricordiamo anche entrambi guidati da belle figure sacerdotali, da direttori spirituali, non lo dimentichiamo, ecco, ancora prima che si sposassero, ma poi anche lungo tutto il percorso matrimoniale, perché nella vita spirituale, come amo ricordare, nessuno può fare da sé, nessuno. Quindi, ecco, la loro esistenza, piano piano, da una luce naturale, da una luce umana, acquisto sempre più una luce sopranaturale. Con l'aiuto anche, appunto, di guide spirituali, oltre poi a vivere e cercare la presenza di Cristo nelle Eucaristie, nella parola di Dio e nella loro, appunto, filiale devozione alla Beata Vergine Maria. Ecco, pensate che, appunto, entrambi quotidianamente si alimentavano dell'Eucaristia e si racconta che usciti di chiesa dicevano buongiorno alle persone che incontravano, come a dire adesso inizia la giornata. Ecco, io esco dall'Eucaristia trasfigurato, pieno di grazia, e posso dirti buongiorno. È come dire adesso sì che comincia la giornata, adesso sì che può cominciare la giornata. E vedete, la giornata, se cominciava nel nome del Signore, si chiude anche nel nome del Signore, perché la sera recitavano il rosario, e non poche volte facevano adorazione notturna, consacrazono al cuore di Gesù, che veniva intronizzato al posto d'onore nella sala da pranzo. Guardate quanto è bello, nella sala da pranzo dei conigi Beltrame Quattrochi, che c'era il sacro cuore di Gesù. Ecco, sei tu l'ospite d'onore, sei tu il protagonista di Casano, sei tu colui che vive, reale, presente, ecco, nella nostra casa, casa che noi ti apriamo, ma prima ancora di aprirti la porta di casa, ti apriamo la porta dei nostri cuori. Non li allettava la vita mondana, non perché la disprezzassero, ma perché avevano fatto una scelta di fondo, la scelta della carità, la scelta di dedicarsi a Dio e al prossimo con una vita semplice, ordinata e ordinaria, una scelta in cui si mostrasse che dalle loro azioni traspariva sempre e solo l'azione di Dio. Ecco, così racconta Maria Corsini, la loro vita è una vita serena, intellettuale, interessante, intima e riposante, mai fatua, mai triste o pessimista, vissuta nel pieno senso della parola, non sorvolata, ma animata sempre dalla gioia della conquista che portava con sé ogni minuto, con la gioia di stare insieme, sempre nuova. Che veramente i coniugi Beltrame Quattroocchi e Corsini, questi beati, possano intercedere per tutti voi, cari coniugi, cari sposi, care famiglie, e la benedizione del Signore per intercessione del Beato Luigi Beltrame Quattroocchi e della Beata Maria Corsini scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie per l'ascolto e vi rimando alla prossima Catechesi.